Da questo ragionamento mi viene in mente una domanda, lei però è ferocemente contrario alla legalizzazione della droga, la droga non si vende nel supermercato quindi questi si arricchiscono eccetera, quelli favorevoli alla legalizzazione sostengono appunto che in questo modo si sottrarrebbero questo business alla mafia. Grazie della domanda. Il THC è diverso e quasi ha un effetto stupefacente quattro volte in più rispetto alla marijuana che si vendeva negli anni 70 perché le piante di marijuana sono modificate geneticamente per resistere agli agenti atmosferici. E allora vediamo cosa dicono quelli che sono a favore della legalizzazione delle cose leggere, delle droghe leggere. Allora uno dice se noi legalizziamo le droghe leggere allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata. Vediamo perché non è vero, questo disegno di legge dice che la marijuana può essere venduta in farmacia a chi ha compiuto 18 anni e va in farmacia con un certificato medico che attesti la sua tossicodipendente. Ma voi sapete bene che la marijuana si consuma nelle scuole medie e allora mi dite i ragazzi da 10 anni a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni dove vanno a comprarla se non possono andare a comprarla in farmacia. E quindi i giovani continueranno ad andare a comprarla da che metà organizzata. Seconda cosa, se noi legalizziamo le droghe leggere le forze dell'ordine anziché perdere tempo appresso alle organizzazioni che vendono marijuana possono andare a impegnarsi in cose più serie, più importanti. Anche questo non è vero. Le organizzazioni che vendono droga in una piazza, mettiamo il caso in cui questo tendone sia una piazza, dove si vende la droga? Chi vende droga si comporta esattamente come un negozio igieno elementare. Nel igieno elementare si vende pane, pasta, olio, aceto, sale. L'organizzazione che controlla questa piazza vende cocaina, eroina, marijuana, hashish, estasi. Legalizzando marijuana e hashish resta cocaina, eroina ed ecstasy. Quindi le forze dell'ordine devono comunque cercare di contrastare il traffico che avviene in questa piazza. Non risolveremmo i stessi problemi. Cosa altro dicono? Se noi legalizziamo le cosiddette droghe leggere, lo Stato incasserà dalla vendita, dalle tasse sulla vendita della marijuana, incasserà 4 miliardi e mezzo di euro l'anno. E' lo stesso ragionamento che è stato fatto anni fa quando si è regolamentato la distribuzione, l'autorizzazione alle slot machine nei bar. Vi ricordate allora? Lo Stato avrebbe incassato a 2 miliardi e mezzo, però oggi nessuno va a studiare, a fare il calcolo, quanti malati di ludopatia ci sono nei centri specializzati, e quindi spese a carico della sanità pubblica, di persone malate, non solo ragazzi ma anche anziani, che si giocano la pensione la prima settimana del mese e che poi rubano in casa, rubano loro della moglie, picchiano la moglie, esattamente come fanno i figli tossicodipendenti, è la stessa cosa. Quindi è stupido dire che è un motivo per fare cassa. E poi un'ultima cosa e concludo, no altre due cose e concludo, però queste sono cose importanti che mi interessa molto parlare, vedo che ci sono tanti ragazzi ed è importante che sappiano queste cose. Allora poi si dice, secondo lo studio fatto sempre da chi è favorevole all'egradizzazione della marijuana e dell'ascese, una bustina, cioè un grammo di marijuana in farmacia costerà 12 euro, 12 euro. Facciamo il finto che costa 10 euro, facciamo lo sconto. Ma se al mercato nero costa 4 euro, 5 euro un grammo, per quale motivo devo andare a comprare in farmacia 12 euro? Quindi sarebbe comunque fuori mercato. Anche quando va al regime, se invece di 12 la portiamo a 10 c'è sempre il 50% di differenza. Ma se la gente per risparmiare va a fare la benzina al self-service, va a comprarsi la marijuana al doppio, è un non senso, è un fuori mercato. Un'ultima cosa che mi interessa, rivolta soprattutto ai ragazzi, ai giovani. Allora, l'uso sistematico della marijuana porta alla diminuzione dello spessore della corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale è la parte del cervello dove risiede la memoria. Infatti voi vedete i ragazzi alle 10 di mattina che stanno come dei pugili suonati. Ed è la parte cerebrale che poi non ricresce. Quindi, e porta ad un aumento da adulti della schizofrenia, d'aumento dei incidenti stradali, aumento di violenza, secondo studi fatti dall'Università del Colorado. Tutti gli indici di violenza aumentano con l'uso sistematico della marijuana. Quindi chiunque vi viene a parlare di queste cose, prima di abboccare tutto quello che vi dite, documentatevi. Non andiamo a fare le mode dell'essere progressisti ad ogni cosa, perché se no siamo dei retrogradi se non accettiamo queste cose. L'altra volta in una trasmissione, mi pare carta bianca, c'era un senatore della Repubblica Italiana che parlava addirittura della legalizzazione della cocaina. Dico, scusi onorevole, volevo chiedere una cosa, ma mettiamo il caso in cui l'Italia legalizza la cocaina. Dove la compriamo la cocaina? Perché in nessuna parte del mondo è legale. Cioè, gli unici tre paesi al mondo dove si produce la cocaina è Colombia, Bolivia e Peru. Siccome questi tre stati non la mettono in vendita, lo Stato italiano dovrebbe andare a comprarla o dall'Ebacrim, dalle organizzazioni criminali che sono nella foresta amazzonica e andare lì a fare un contratto di fornitura di nanavi al mese per l'Italia di cocaina. Quindi c'è la cosa terribile, io non ve l'ho detta per sorridere, ve la dico per dirvi la paura che mi fanno certe persone che hanno potere, che stanno sopra le nostre teste, che vengono pagati tanto e sono in grado, senza pudore, senza rossore, di andare in televisione e dire di queste sciocchezze. Il giorno dopo non succede nulla perché è come acqua fresca. La cosa più grave è che non ci indigniamo più, che c'è una suefazione. La cosa più grave è che nel mondo occidentale, in Europa, in Italia in particolare, c'è un abbassamento della morale e dell'etica spaventoso. Questo è il declino della cultura occidentale o della cultura cristiana che sarà fagogitata da altre culture molto più determinate, molto più disciplinate rispetto alle nostre. Quindi attenzione alla suefarci, torniamo a tenere la schiena dritta, torniamo a occuparci di noi e di tutto quello che accade, ricominciamo. A occuparci della cosa pubblica, finiamola con le barzallette o con chi la spara più grossa, spegniamo per un po' sti social, per favore, e incominciamo a parlare in lingua italiana, nuovamente, incominciamo a parlare. Grazie. 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 Grazie.